Eccoci qua ragazzi del post partita di Italia e Bosnia e oggi appunto faremo il post partita e parlerò un po' di come mi piace quest'Italia e dove potrà arrivare l'Europa. I gol sono fatti tutti e tre da giocatori diversi, uno è Acerbi in difensore che è praticamente al sostituto di Chiellini infortunato, il povero Chiellini, speriamo che si riprenda. L'altro lo fa Insigni, attaccante della RAC e l'altro Belotti, attaccante del mio fantacalcio, Bill West, cioè della mia squadra al fantacalcio e anche del Torino e appunto anche dell'Italia. Visto in Italia bella, compatta, aggressiva e con molte possibilità di andare, cioè di far bene all'europeo, sembra, cioè all'apparenza l'Italia deve far bene all'europeo. Questa è una nuova Italia dopo il doloroso pareggio con la Svezia a Milano, finito 0-0, quello sì che fu doloroso, ma ora l'Italia si può riscattare, ora possiamo riscattarci, ora possiamo andare avanti, possiamo andare all'europeo, perché siamo migliorati. Di sicuro io ho visto una bella Italia che può andare avanti. Intanto fatemi sapere voi dove arriverà l'Italia all'europeo. Allora, per me l'Italia all'europeo può far bene, per me lo può anche vincere questo europeo, però non voglio dilungarmi troppo. Cioè, io penso che l'Italia possa arrivare almeno in finale, cioè perché dopo la delusione di tre anni fa, quando è nel 2016, con la Germania e i rigori, poi battuta la Francia, là c'è goduto, però comunque, cioè la Germania no, io i tedeschi no, cioè, comunque se abbiamo perso i rigori, e quest'anno secondo me, se non facciamo cazzate, possiamo arrivare anche in finale, addirittura vincere questa finale, però non si sa mai, poi porto sfiga, perché arriviamo in finale e perdiamo, almeno in finale ci arriviamo e spero che la vinciamo e penso che la possa anche vincere questa finale. Poi ovviamente ci saranno altri competenti già qualificati, intendo, eh, come il Belgio, la Russia, però parliamo di squadre più forti che possono battere l'Italia, per ora Belgio, Francia e Spagna, tipo, sono molto forti. Il Portogallo non è ancora qualificato, anche se dai, se non si qualifica per Gironi, è ammessa allo spareggio. L'Isla, invece che si è qualificata, anche la Turchia e povera Islanda, di conseguenza, deve sperare di essere ammessa allo spareggio di Laga. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi di Italia e Bosnia e fatemi sapere anche dove può arrivare l'Italia in finale.